ciao ragazze ciao a tutte ea tutti allora nuovo video make up un video velocizzato perché non voglio far perdere il tempo a nessuno quindi andiamo di oggi ho messo pochi prodotti a disposizione per me perché poi farò altre cose e non sto qua a dilungarmi comunque utilizzo questa palette è questa di W7 per gli occhi e questa qua sempre sopra la matita quindi andiamo prima di mattita e poi ovviamente andiamo con la palette allora vediamo un po cosa mi riesci di fare perché qui non specchiano niente quindi devo improvvisare a cosa mia sempre se mi ci vedo perché non è detto aiuto oddio mio vabbè dai non è venuto male potete fare di miglia però ok insomma non sono una trucatrice lo ammetto me lo faccio per passione questo video di trucco già lo dico mille volte e mille volte lo riconfermo per non essere ripetitiva andiamo avanti allora qua sono indecisa se mettere questo qua non si vede aspettate così sì questo oppure quest'altro qui color cioccolato caffè latte vabbè le descrizioni fanno pena lo so pazienza appiccate clementi con me allora andiamo di qui tanto le salviettine stavolta mi sono attrezzata bene e lo sfumiamo con un dito oh signor io non so perché non sto facendo come faccio le altre volte che ero più come si dice più attenta a non sfumare dai non è male adesso dove ho messo qua il mio salviettine vabbè le prendo dopo per non insozzarmi tutta allora e dopo prendo le salviettine perché mi viene male adesso oddio mo mi insozzo tutta vabbè ce l'ho in borsa le salviettine però siete appoggiati sopra la mia borsa quindi mi viene male che intelligente mi viene male adesso non vabbè tanto quasi finito ok ma grazie ok un tempo ma si dai non è che mi so truccare da grande trucatrice perché non lo sono però ci sto a provare andrò a truccare come si deve oh signore via buono aiuto questo li pulisco questo dittino mi asciugo il vestito alla tutta perché sono in tutta ragazzi e poi questa tutta la devo anche mettere la matrice in forno bella doccia obiamo oh signore no vabbè il peggio del peggio già poi questo pezzo dovrò un po stringere verso di mano lo so vediamo come posso fare nell'editing allora sto cercando qua se trovo il mascara eccolo qua l'ho trovato il correttore non è messo ragazzi tanto non ho portato chissà che pennelli quindi mi arrangio col mascara se non mi va se non mi cola tutto cioè così non ridere troppo oggi perché sennò va bene un commento mi è arrivato ok vediamo se l'editing esce bene o pulisce una schifezza speriamo di no perché montarlo così lasciarlo così non va bene comunque questo mascara è bello molto bello mi piace è abbastanza impregnato di prodotto questo mascara ok no mamma mia che belle ciglia c'è in piatta perché le mie ciglia sono già belle folte belle lunghe no vogliamo dire di più ok poi poi prendo una pena di sì che sto dicendo vabbè allora qui ho in mano quel chicco lì quella tinta labbra che si mattifica sulle labbra ed è della chicco solo che il problema è io talmente utilizzarla più volte più volte nei giorni nei mesi e negli anni e bla 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 ancora buona non è guasta eh non si è ossidata non si è ossidata quindi va bene lo stesso quanto ci sto mettendo sei minuti ok prima di salutarci utilizzo sto mascara qua tanto metto dalle musica ragazze sennò questo video veramente pietoso questo è Siete che le menti Perché lo so che vi baffino Chissene Non devo fare nessuna passerella Voglio un tipo che lo metto fuori Va bene dai Può andare Diciamo Va bene Adesso cosa faccio da mettere qua No il blush non lo metto una volta Se non è che metto un po' di rosetta Un po' di blush No scordate proprio perché ero lì Ero brava una volta adesso Mi sono completamente rimbambita Mettendo blush e facendo schifezza Quindi evitate Fatemelo grazie Sì lo so che potete Per voi sono bravissima Ma io devo distreggiarmi bene A fare un benedetto Make up fatto bene Non è che deve essere stra perfetto Ma non deve essere anche una schifezza Questa è la mia scuola di pensiero Bene ragazze Allora Oddio mi sta avendo capogiro Quindi devo chiudere Il video perché poi Vi saluto e monto il video Allora ragazze Come vi sembra questo trucco? A me non l'ha di male Aspettate Guardo 9 minuti di video E di 19 secondi Ok Io vi saluto Vi ringrazio Dell'ascolto Ma anche della vostra compagnia Perché io a voi E voi a me E ci si vede Alla prossima video Ciao Ah Ovviamente Un bel thumbs up Che sarebbe un bel like Di supporto Per aiutare a crescere il mio canale YouTube E Niente Commentate Commentate Basta E Se vi va Iscrivetevi Per non perdere i prossimi video Aggiornamento Attivate la campanella Seguitemi su TikTok E Instagram Per non perdere Per non partire anche da Facebook Ciao Mettete un like se non vedo la macchia Per chiudere il video Oddio mio Vabbè Ciao Che capelli che ho Vabbè Ciao 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 Grazie a tutti